Avete mai sentito, ho visto questo simbolo, avete mai sentito il suo nome? Camineras? L'anno scorso c'erano dei camper? Esattamente. Avete la percezione di avere una strategia di apprendimento che possa essere, non dico di male, ma che funzioni insomma? Ce l'avete, avevano e facevano sostanzialmente qualcosa di diverso, non erano più intelligenti, più motivati, non erano sostanzialmente molto più bravi, erano sostanzialmente differenti in termini di strategia. Quindi, però perché voglio fare con voi questa riflessione? Perché questa riflessione, se non la fate adesso, la scoprirete dopo e scoprirla dopo rischia di avere un costo. Quando non ho guadagnato, se ho impiegato tra i miei, ho fatto un po' la famiglia. Si mi dà parla con i 60 anni. In neurocienza l'ho superto che in realtà la modalità più efficace per apprendere la lingua stranica. Una volta che hai capito che c'è un soggetto, un verbo, un complemento, in realtà in quella frase ci sono dei suoni che io devo associare. A quel punto io ho la capacità, perché è un'abilità neurologica, di prendere quella cosa e tradurla nel mio canale sensoriale prevalente. Ciao! 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 Ciao!